Per altri ragazzi sono Dialogamo, come state? Io bene ragazzi. In questo video, come vedete dal titolo ragazzi, oggi sfideremo un youtuber che forse conoscerete in tantissimi ragazzi. Oggi sfideremo Marques su StumbleGuys. Adesso ragazzi vi spiego, è una sfida particolare e diciamo che c'è da spendere, ok? Allora Marques, già ti ringrazio molto per aver accettato questa partecipazione. Grazie a te, no. Sto spiegando la sfida, ok? Ok. Faremo praticamente tre match e chi vince la più match porta a casa la vittoria. Ovviamente chi perde deve comprare il pass a quello che ha vinto. Dunque molto semplice. Hai capito il dell'anore, va bene, va bene. Molto semplice, ok? Ok, benissimo. Ok, ho fatto la santa e ti do il codice. Allora tu più o meno sai già fare qualche trick, hai imparato qualcosa o... Il trick è nulla, so solo saltare e fare il doppio salto. Solo quello? Sì. Aspetto a alcune che neanche io so fare il trick, è mai imparato. A volte mi escono un po' così. Ok, va bene. Tu guarda sempre le tue live, quindi qualche cosa ho imparato, dai. Ok, ok. Poi qua anche le mappe, li prendo anche delle mappe qua. Qua ci sono mappe abbastanza difficili e poi mappe un po' più easy. Tipo questa, è una mappa abbastanza easy. Questa è semplice. Allora ti ricordo che chi perde deve regalare il pass all'altro, dunque. Mica, sei già, mica sei già primo, cioè. Hai visto il Marchessone? Mamma, un attimo. Allora, tu da quanto giochi hai detto? Io l'ho scaricato meno di una settimana fa. Ok, ok, ok. Ok, sono in vantaggio. Sono in vantaggio, mi sembra che ci portiamo cadere a questa prima vittoria. Ok, io già mi sono qualificato nel primo round. Ok, a posto, vai. Ci siamo, ci siamo. Perfetto, ok. Ok. Bisogna aspettare che si qualifiquano tutti questi bot, c'è senso. Ma sono firmi, ma che stanno facendo? Poi vedi anche i timing. Saltano praticamente allo stesso tempo. Allora. Ma questa skin, che razza di skin è? È una skin speciale, questo. Allora, io diciamo per eguagliare un po' la sfida, non userò, non userò emot, ok? Bro, c'è un problema, mi stanno prendendo a pisterlate, cioè. Come? Aspetta, dove sei? Ok, a posto, ci sono, ci sono, ci sono, sono troppo forte. Ma il pugno come si sblocca? Io non lo so, sono nuovo su questo mondo. Spiegami un po'. Allora, per sbloccare gli emot, cioè pugno, scivolate, queste cose qua, devi shoppare il pass. O shoppi il pass, o forse sai fortuna, li trovi nel giro della fortuna. Ok, ok. Ma quello è proprio rarissimo di per cosa shoppare. Oddio. Oh, che sta mappa, bellissimo, block dash. Questa l'ho giocata tipo un paio di volte, vediamo. Questa è la finale, giusto? Questa è la finale, esatto. Questa è una delle mappe preferite, molto bello. Qua devi avere proprio precisioni, perché ci sono alcuni blocchi che ti fanno violare. Una mappa che odio, della finale, è il laser. Mamma mia, è bruttissima. No, come lo odi? È bellissimo come mappa. No, non mi piace, è bruttissimo. Purtroppo incasinato, ci sono 300 laser. È scomodissimo. Hai vinto? Portiamo a casa la prima vittoria, la prima win. Hai vinto te? No, ma come? Il primo round lo vinte io, dunque siamo 1-0 per il momento. Dunque adesso stiamo stortando il secondo match. Vediamo che mappa esce. Io spero che esce. Una delle mappe che mi piace inizialmente è... Non mi ricordo il nome. A me lo sai, quella che mi piace un sacco? Quella con l'acqua. Quella con l'acqua? Jungle Rule? Eh, non mi ricordo il nome. Però mi piace un sacco. Vabbè, pure questa, dai. Oh, questa è una delle mappe odiose. Quei palloni che ti vengono in faccia, ti fanno un busto della Madonna. Bro, le pisellate che mi stanno dando queste palle, non ho idea. Oh, ma mica non vengo qualificato. Mi arrabbio se non mi qualifico. Fica, se non ti qualifichi neanche nel primo round, questo è... No, no, davvero, pianto. No, no. Ma no, però non ho senso sta mappa, dai. No, 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 non devi che non mi qualifico. No, 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 no. Oh, bro, non mi sono qualificato. No, no. Nemmeno io. No. Che merda. Usciamo, 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 usciamo. Minchia, se esco, lo dito proprio. Mamma mia, che partita di merda, veramente. Allora, questo è Ghiroshop a chi? È interessante come mappa. Comunque, come ho detto, per cercare di non avere vantaggio, non userò emot, tipo calcio che mi dà un busto della Madonna quando faccio il doppio salto, dunque non lo userò. Allora. Bro, sto cadendo in continuazione. Ti vedo? Vabbè. Stai facendo dei voli. Se non mi qualifico questa, spacco il mouse. Sto guardando che stai cadendo malissimo ogni volta. Ma faccio tipo molto easy sta mappa, invece nulla, amore, adesso. E della London mi porta a sfortuna. No, ma no, non è vero. No, 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 no. Per favore. Ce l'hai fatto, ce l'ha fatto? Non ti vede? Sì, 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 mi qualifico, mi qualifico. Ho fatto tipo un comeback a sfordo. Ecco, ti guardo. Oh, sono primo. Sì, sì. Il marchessone. Era l'ultimo, bro. Sì, sì, ma è un po' lì che ti aspettavo, eh. Sennò mi potevo già qualificare. Vabbè, si sta, si sta. Aspettiamo un attimo e vediamo un po' come. Oddio, l'hai chiamata. L'ho chiamato ed è arrivato. Minchia, questo è il potere della nonna, raga. Ma se perdi siamo 2-0, eh. Dunque... No, non posso perdere. Devi stare concentrato. Qua dobbiamo praticamente qualificarci in 8. Dunque, devono muovere soltanto... Ah, di già. Ok, ok, a posto. Vediamo la mappa finale che esce. Ok, ok, non cosa ci sta? Honey drop. Ok, parkour questa. Cioè, qua ovviamente non devi cadere. Esatto, bellissimo. È spliff. Esatto, tipo spliff, esattamente. Tipo spliff di Minecraft. Allora, andiamo un attimo così. Adesso io devo try-a-dare adesso perché... Oh, devi try-a-dare, eh, no? Eh, spendere soldi per il posto non c'è voglia. No, no. Facciamo così. Oddio, adesso? Non devi avere nemmeno un coso per scendere. No, 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 non si fa, non si fa così. Hai capito il banca e sole, cioè? Però comunque questo è un trucco veramente molto interessante. Vai giù, vai giù, tolì tutti i blocchi giù. Così almeno... Non c'è da sopra. Sei morto? Sono scemo. No, 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 sono vivo però. Ma siamo io e te vivi? Esatto, siamo gli ultimi due, dunque... Marcassone versus Delanone. Ok, vediamo un po'. Try-a-da-mile qua adesso. Mamma mia, sto try-a-dare di brutto. Dove sei? Ok, sei ancora su. Oddio, che ansia. Che ansia. No, 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 no. Sì, no, no. Easy. Cosa ho fatto? Comunque, in questo ora devo dire che sono uscite veramente delle belle mappe. È vero, 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 vero. Andiamo all'ultimo game e qua chi vince... Hai capito, dai. Questo è il game definitivo. Esatto. Ok, iniziamo. Dunque questa è l'ultima sfida per capire chi sale il vincitore e chi sale il perdente quello lì che compra i pass all'altro. Fai conto che i pass sono tipo 1.200 gemme che andando nello shop... Sono 8 euro. 8 euro, esatto. Qua, regà, questo è... Si reta al massimo perché qua non bisogna che pare. Madonna, davvero, eh. Unice bello figo. No cap. No cap. Dai, questo round è molto easy, molto easy, signor Teranone. Ok, primo. Ci sta. È la finale che lì bisognerebbe capire che mappa uscirà perché la mappa in finale conta tantissimo. Ok, sta mappa è... Mi ho giocato a noi due volte. Perché di solito lì all'inizio si bloccano tutti, praticamente. Invece noi diciamo che l'abbiamo passata molto easy, dai. Esatto, esatto. Qua c'è timing, bisogna avere un perfetto timing in questa parte. No! Ok, dovevo jumpare. Ok, mi sa che ce la fai? Allora. Ok. È qua però devo essere... Perfetto, ok. Vabbè. Eh, qui ci sto da solo, come faccio? Vai in fondo, in fondo e che poi vai su e fai un bel saltino. Perfetto, qualificato. Ok. Qualificate due, adesso dobbiamo aspettare che i bot arrivano alla fine. Dunque qua... Se mi spingono, bro, è veramente... No, 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 ok. È il momento che ti si sa la Samborgance. De la no! Bro, ti giuro, eh. No, no, no! No, ma come? No, te ho visto... Ma si arrivano sti bambini? Cioè... Te ho visto andare giù! Te ho visto andare giù di brutto. No, bro. Ammette anche a sto gioco, basta. Lo tolgo. Tu giochi? Io ti vorrei tirare un puglio, non lo so. No, bro. No! No! Merda! Sei caduto da solo! No, bro, mi hai spinto te. Non è... Ganci i soldi. Devo ganciare, eh. Ganci i soldi, Paypal, bro. Ti mando la Paypal. È stata molto, molto bella l'ultima. L'unica cosa è che io sono saltato mentre saltavo. Te sei saltato, diciamo, spinti a vicenda, però sono caduto. Esatto, perché c'era un po' di... C'era un po' di... Come si dice? Body blow. Lasciate il like, ragazzi. Iscrivetevi se vi va. E come al solito commentate, perché i commenti sono importanti. Io leggo sempre i commenti. Anche se sono brutti, io li voglio leggere. E niente, ragazzi, ciao e ci vediamo al prossimo video. Bella. Bella. Bella.